In questo secondo spazio di Telebari Social Night avremo il piacere di ospitare il Conor McGregor della Puglia. Nel panorama italiano è tra i fighter più promettenti. Chi? Scopriamolo dopo questo filmato. Scopriamolo dopo questo filmato. Scopriamolo dopo questo filmato. Scopriamolo dopo questo filmato. Grazie a voi. 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 cose. Giusto, giusto. Allora, Dylan, partiamo così. Quando e perché hai iniziato a praticare questo sport? Allora, non c'è una risposta, diciamo, secca a questa domanda, perché io purtroppo mi è sempre piaciuto scontrarmi con la gente, mi è sempre piaciuto un po' questi sport violenti. Ok. Io poi ho praticato per tanti anni lotta, lotta libera e checa romana. Sono stato dieci anni nazionale, poi purtroppo ci sono stati degli ostacoli che non mi hanno permesso di continuare, anche se avevo già il pallino dell'MMA. Quindi appena ho lasciato la lotta, ho perso la pala al balzo e mi sono dato l'MMA. Ormai sono quasi quattro anni che vivo a Roma. Ok. Combatto per l'Aurora MMA. Ecco. Per tua stessa definizione sono, ce l'hai detto tu adesso, sport violenti? Sì, guarda, ti posso dire io che lo pratico che c'è molta più violenza fuori dalla gabbia che all'interno. All'interno? Sì. Lo posso assicurare. Ecco, perché i pugni, i calci, il diciato non ti lascia. No, no, per carità, sì. Poi lo sport mio, a differenza della box, della kick, praticamente combattiamo con dei guantini che sono quasi a manuda. Quindi 90% ogni match finisci che hai un po' l'occhio alla rookie o tutte queste cose qua. Nonostante ne vale la pena. Guarda, la gente mi pene per pazzo, ma io purtroppo vivo di questo. No, noi vogliamo conoscerti, non ti vogliamo giudicare, però credo siano domande lecite. Sì, sì, vivo di questo e amo fare questo e ho, diciamo, un fuoco dentro che mi fa andare avanti solo facendo questo. È la passione, è la passione. Allora, Dylan mi stava rivelando prima che la gara in cui si è purtroppo infortunato è stata quella in cui ha perso la possibilità di partecipare alla UFC. Ed è stata la sua prima sconfitta su dieci combattimenti vinti. Quindi è stata diciamo una sorta di... è un brutto periodo. Tipo il bario novantesimo. Ecco, ecco. Una delusione, però comunque dicevamo anche prima che hai tutte le carte in regola per poterci riprovare. Sì, sì, esatto. Questa è stata purtroppo la mia prima sconfitta. Essendo che il titolo era vacante per la mia categoria, numero due ero nella classifica europea e numero due ci sono rimasto. Quindi sono sempre lì, per fortuna non è cambiata. Bene, benissimo. L'unica cosa, se avessi vinto, sarei entrato in UFC, che sarebbe un sogno di ogni lottatore. Ecco, spieghiamo a chi non lo conosce che cos'è anche a me. L'UFC è il circuito più importante al mondo dove appunto combatte il famoso Conor McGregor. In percentuale, quanto della tua vita, del tuo allenamento è qui in Italia e invece quanto viaggi? Allora, io viaggio abbastanza in tutto il mondo. Ora sono stato in Spagna, poi quasi sempre vado in America, che è praticamente la casa madre dell'MMA, quindi ci sono le palestre più forti dell'MMA, dove ci sono tutti i fighter che combattono in UFC, Bellator, che sono i circuiti più importanti al mondo. Mi permette di viaggiare. Ora sono quasi quattro anni che vivo a Roma, però non sono, diciamo, stabile perché per via dei camp, che sarebbe la preparazione per il match, sono quasi sempre fuori. Alterno, Svezia, Spagna e America. Più o meno quelli sono i punti fissi. Le tue case secondarie. Allora, prima Dylan, hai citato la sconfitta della Bari alla finale dei play-off, però io ho individuato sul tuo profilo Facebook un video bellissimo che riprende la curva e nella curva, che tra l'altro avevo anche notato quando sono stata allo stadio, c'è uno striscione che ti hanno dedicato. Vediamo questo filmato e poi ne parliamo. È davvero super emozionante, no? È veramente un grande orgoglio ed è anche una cosa che mi gratifica molto. Cioè, tutta la curva lì per te? Sì, esatto. Mica niente. Cioè, a dire che mi sono arrivati tanti messaggi dopo quell'ostriscione perché la gente pensava avessi fatto un incidente. Che ti fatti fatto male, oddio no. Sì, e addirittura mio padre lo contattarono perché pensavo fossi andato in guerra con l'Ucraina. Così. Te lo giuro, su Facebook. E sì, perché giustamente lotta per noi. Chiaramente magari qualcuno che non sa bene. Sì, qualmente c'è stato l'anno scorso a Manchester. Ok. Io combatto quasi sempre in Inghilterra, solo che ora il circuito dove combatto, che è inglese, si sta spostando anche in Italia e vabbè, un giro per il mondo. Dylan, tu hai commesso un grande errore. Ti sei fidato delle persone sbagliate perché questa signorina qui, Maricla, è una ficchetta di prima categoria. Quando si tratta di profili Instagram, ne fa proprio... Ah beh, io non ce l'ho manco pubblico, quindi non posso dire niente. Come ho? Cioè, non ce l'ho privato, scusami. Ecco, ecco. Infatti, perché ho individuato a proposito di Bari Calcio, questa bella foto che ti ritrae insieme a Follow Room Show. Esatto. Siete amici, quindi? Allora, diciamo che io sono amico a quasi tutti i calciatori del Bari, però con quelli in cui mi sono legato di più sono, vabbè, Michael, Esposito e che dire, loro sono i tre che ho legato, sono persone fantastiche, non me l'aspettavo perché comunque a questi livelli, un po' tendi a, non a pecare di umiltà, però sì, invece loro di una gentilezza, di una simpatia unica. E loro sono mai venuti a vedere qualche tuo incontro? Sì. Dai. Dai. L'ultimo, l'ultimo. Ah, wow. Sono venuto a vedere, infatti non c'è, ma nella presentazione dell'ultimo match esce anche Michael nel video. Ah, che bello. Un supporto tra sportivi non è da sottolineare, non è da poco. No, infatti, infatti. Nella tua vita privata, vedendo questo sport così fisico che fai, che rapporto hai con la rabbia, con, insomma, fare un balance tra quello che è l'attività fisica e poi quella che è la vita reale? Allora, guarda, ti spiego, io sono un ragazzo molto, molto impulsivo. Grazie a questo sport mi ha dato una tranquillità e un'autogestione all'interno che non mi sarei mai aspettato e paradossalmente è anche una sorta di sfugo, sia a livello fisico che, cioè, psicofisico, diciamo così. Quindi mi aiuto un botto anche nei momenti un po' neri, un po' bui, andando in palestra allenandomi cerco di scaricare tutta la fuga e tutta la, diciamo, la rabbia che ho, quindi... Vengo con te. Infatti, se ci fai caso, tutte le star, attori, star, fanno tutti, non le MMA, ma fanno un allenamento che si chiama Focus, dove tu colpisci su dei guantoni e ti aiuta un botto a scaricare tutto il nervoso, l'adrenalina, tutto. E quindi, a proposito di allenamento, Dylan, vogliamo sapere da te quanto tempo ti impiega la preparazione ad un incontro? Ok, allora, vabbè, quando mi danno la data del match finisce la mia vita sociale. Zero. Non tocco dolci, neanche cose gassate, non esco, non faccio niente di tutto il giorno. Quanto tempo prima inizia a comportarti così? Due, tre mesi. Ah, pensavo due, tre giorni. No, infatti, vorrei io. Magari. Quindi esco solo per lavoro, se no niente di che. Mi alleno da lunedì al sabato, di cui due, sbarro due, tre giorni a settimana, mi alleno due o tre volte al giorno. Ok. E altri mi alleno due o tre volte al giorno, fisso. Le ore non me le chiedere perché entro alle... È come entrare in una bolla, no? No, perché entro alle dieci di mattina ed esco agli otto di sera tutti i giorni, quindi non ho mai contato il mio ordinamento. Hai menzionato tu gli sgarri culinari? Sì. E io non potevo che prendere un altro filmato, vediamo. Oggi sgarro con Dylan Razza. Dylan, ma tu durante questi match con cosa sgarri? Io da bombanese, prevenisco l'orecchiette e cime di radio. Cime di radio e ragù, o con la bracciola? Mi preferisco. Non si può neanche mangiare in santa pace. Oh, lo chiamo io a quello. Oh, Tommy, vieni. Ma che cosa hai fatto? Vieni. Le hai fatto incazzare, vieni. Come fa? Eh, lo sai, la barchetta... Non ho capito, però. Sta un bacio nel video. È il mio piatto preferito, lo sai. Ah, adesso, così non giovi una bella forchettata. Vai, vai, vai. Ragazzi, il 6 maggio vi aspettiamo. Facciamo il tipo per un barese come noi. Ragazzi, vi aspetto a Roma il 6 maggio. Qual è il cibo voloso a cui non potresti rinunciare? Premetti, premetti. Che purtroppo quel piatto non l'ho mangiato. No! No, perché stavo ridosso dal match e non posso assolutamente sgarrare. No, che brutto, te l'hanno messo davanti e non hai potuto nemmeno assaggiare un'orecchietta. Ma loro erano i nostri amici di Bari Food Porn che salutiamo. La prossima volta lo mangio insieme allora. Infatti potevi chiamare, ma annaggia. Diciamo, i miei sgarri dopo il match, tutto quello che trovo davanti mangio. Ah, ecco, proprio così. Dalla lasagna di mia nonna, la pasta al forno di mia madre o io impazzisco per la frutta di mare, ecco. Da bravo barese. Ah, beh, certo. Quali sono i legami con la tua città? I posti del tuo cuore? Eh, beh, sicuramente il mio quartiere. Ma quando sono andato via mi ha fatto capire tanto. Ricordiamo qual è? Il San Paolo. E purtroppo determinate cose, se non esci, non le potrai mai capire perché pensi che poi le cose siano tutte uguali o tutte scontate. Invece, uscendo proprio dalla mia città e frequentando anche determinata gente che non ha niente a che vedere con il mio quartiere, capisci determinate cose. Ovviamente io porterò per sempre sia il mio quartiere che la mia città, ovunque andrò. Però purtroppo, essendo che la mia città non mi ha mai dato sbocchi a livello lavorativi, ma il problema non è intanto un cuore, proprio in Italia, se per sempre parlo del mio sport. Purtroppo appena ho potuto ho fatto le valigie e me ne sono andato. Quanto sono importanti le palestre al di là del fattore sportivo? Proprio a livello sociale, magari l'hai detto anche tu, danno sfogo, occupano le vite magari dei ragazzi più giovani che magari farebbero altro? Sì, purtroppo questo discorso va a metà perché c'è molta gente che ho visto con i miei occhi che va perché si deve fare la storia su Instagram o fa il MMA perché pensa che dopo due giorni sa tirare due pugni o può andare in discoteca a fare le risse. Purtroppo questa è ovunque, la troviamo ovunque. Dall'altro ti posso dire che molta gente, me compreso, ha dato una seconda possibilità di vita perché fossi stato qui o nel mio quartiere sapevo già cosa avrei fatto. Beh, questa è una bellissima storia, un grande esempio di riscatto che insegna a tantissime persone che l'importante è crederci e tutti possiamo farlo. Con l'impegno, chiaramente la dedizione perché come dici tu non è che si diventa Conor McGregor da un giorno all'altro né fra qualche anno potranno dire non si diventa Dylan Nathan da un giorno all'altro. Sarà un bello essere un punto di riferimento per i giovani. Ecco, e io credo che tu stia già iniziando a farlo in realtà da alcune cose che ho letto. Ti chiedo a questo punto, qual è la tua fonte di ispirazione nel mondo dell'MMA? Allora, ci sono due fighter preferiti dove ho preso, diciamo, spunto. Uno è, sono tanti anni fa, prima che ancora dovessi praticare MMA, che è Garbant. Un americano, abbiamo, diciamo, una storia in comune perché lui ha vissuto con un ragazzo che ha avuto un cancro e per fortuna ce l'ha fatta, l'ha portato sempre con lui durante i match. Io nel 2019 ho conosciuto un ragazzo che purtroppo non c'è più, che è morto di cancro. E questa storia tra me e Garbant ci ha legato perché io mi sono allenato con lui in America. E lui poi, vedendo il mio profilo Instagram, mi ha chiesto proprio, aveva capito, diciamo, la situazione, mi ha chiesto chi fosse sto ragazzo e gli ho spiegato tutto e ci siamo, diciamo, legati. Uniti. Uniti, sì. E poi, ovviamente, da un po' di tempo a questa parte, che sono stato in Spagna, ora da lui, è Topuria, un fighter che è in UFC, che tra poco combatterà per il titolo della UFC. Sì. Ecco, quindi ti ispiri un po' a loro, alle loro movenze anche. Esatto, esatto, sì. Qual è la tua particolarità in questo sport? Qualcuno ti riconosce? Ah, anche senza magari vedere il tuo viso. Qui ci puoi fare anche una supercazzola, tanto noi non capiremo mai. No, no, ovviamente la gente mi conosce ancora prima di praticare MMA. Io ho praticato dieci anni lotta, sono stati dieci anni nazionali, ho fatto europei, mondiali. E in questo sport si chiama MMA proprio perché è un mix di arti marziali. C'è chi viene dalla box, chi dalla muay thai, chi dalla lotta, chi dal grappling, e poi si uniscono. E molta gente ovviamente mi conosce, io ho vinto anche i match grazie alla lotta. Che il mio background è la lotta. Hai detto prima che ti piace leggere, qual è il libro del cuore? Mike Tyson. Biografia. Tu non amo molto i libri di biografia. Ci sta. Maricla, che dire, noi ringraziamo l'ospite per essere stato. Certo, assolutamente. E davvero tanti complimenti per la tua storia, il tuo percorso e per quello che darai. Tutto il meglio per la guarigione, che avrà molto presto. E certo, ma vogliamo fare qualche in bocca al lupo anche alla tua squadra del cuore. Che dici? Vabbè, io spero con tutto il cuore che i miei amici ritornano nel Bari, anche se è un po' impossibile. Cambieranno un bel po' di cose. A tutti i miei amici del Bari, che purtroppo le sconfitte fanno parte della vita quotidiana, bisogna guardare sempre il lato positivo. Perché indietro non si torna, bisogna fare tesoro delle lacune di quello che si è sbagliato e andare avanti e ritornare più forti di prima. Grazie, grazie davvero Dylan. E noi, Andrea. La storia di Telebari e Social Night continua e si evolve dal mondo dello sport a quello della musica. Tutto questo quando? Dopo la pubblicità. Rimanete con noi.